Occasione fallita oppure tutto sommato punto da non disprezzare. Occorrerà ricordarsi nel breve periodo in casa San Giovannese questo pare di San Gimignano. Gli azzurri partono col 4-3-3 nel quale per la prima volta da inizio stagione in mediana ci sono Mazzolli, Muscas e Tacconi. Centrale difensivo scelto Marghi per lo squalificato Scoscini. Cronaca 4 minuti punizione da ottima mattonella per Di Santo. Il destro lambisce il palo, l'attaccante avrà la sua rivincita. Da qui per larghi tratti il San Gimignano riesce a rendersi più pericoloso. Ecco l'assist di Michi per Marconcini a rimorchio, diagonale centrale bloccato da Garbinesi. Minuto 19 Alagia tra i più vivaci dei suoi crossa da destra, Michi gira, Garbinesi dice ancora di no. Si rivede la Sangio dopo la mezz'ora con il traversone di Gerardini. Di Santo il croce al piattone fin troppo la sfera supera anche il montante opposto. La prima frazione si chiude con l'incornata di Veratti sul primo montante ancora una volta fuori dai pali. La ripresa invece si apre col grave errore di Gerardini lasciato col colpevolmente solo in aria. L'impatto con la sfera però è disastroso, diviene difensore aggiunto invece che realizzatore. Si rivede quindi il San Gimignano nelle immagini in maglia lilla. Garbinesi in due tempi nega il vantaggio ad Alagia. Capita poi che l'estremo azzurro debba uscire dall'aria per anticipare l'avversario. La respinta è preda di Veratti che cerca il gol della domenica. Garbinesi recupera ancora e mette in corner. La Sangio chiede anche un penalty per questo contatto in aria turrita e danni di Mencagli. Per il signor Lingamurti si prosegue e anzi da parte opposta Michelotti dal limite trova la deviazione involontaria che accresce la parabola del tiro ed inganna stavolta il portiere con la palla che si insacca 1-0. Ma a ristabilire la parità ci pensa di santo su punizione. Stavolta la battuta è senza difetti e tutta pregi così giunge l'1-1 e sempre da palla ferma nel recupero potrebbe arrivare anche il sorpasso. Chiarugi però stavolta mette in corner e arriva al triplice fischio. mercoledì il recupero in quel di Sinalunga.